Buongiorno a tutti, come potete vedere alle mie spalle ci sono dei bilici sul Ponte Catolfi, il collaudatore e il direttore lavori stanno effettuando le operazioni di collaudo. In questo momento ci sono 400 tonnellate di peso sull'impalcato che verranno ovviamente distribuite su vari casi di carico in modo da poter misurare tutte le deformazioni e le rotazioni per poi confrontarle con quelle di progetto. Qui nella spalletta di lato ponticino c'è una stazione di misura totale che appunto misurerà tutte le deformazioni che subirà l'impalcato al passaggio di questi bilici e di questi pesi. Da ora in avanti quindi le operazioni strutturali sono terminate, quindi rimangono soltanto delle fasi di finitura su cui rientrano ovviamente la posa degli asfalti e l'installazione delle barriere bordo ponte, quindi guardrail per garantire poi la percorribilità in sicurezza dell'impalcato una volta che il ponte verrà aperto.